Lei oggi come Presidente della Quarta Commissione Cultura di Crotone proporrà di intitolare il Teatro Comunale di Crotone al Maestro Vincenzo Scaramuzza. Sì, sicuramente. Questa è una di quelle occasioni che io credo ci unirà a tutti. Io non dubito che questa proposta, che è una proposta della Quarta Commissione Consiliare, che quindi è una proposta in realtà di tutto il Consiglio Comunale perché è stata assunta all'unanimità, quindi di tutti i consiglieri che ne fanno parte. È una proposta che tra l'altro ci è pervenuta da diverse associazioni piuttosto che persone che nella nostra città si interessano di cultura e fanno cultura. Io ne potrei citare numerosi, penso a Teresa Cardacea ma penso anche alla Fondazione d'Ettoris e a tanti altri. Tutti i costoro hanno voluto, per come si evince anche dalla proposta di deliberazione, spiegare, anzi ricordarci che cosa è stato il Maestro Vincenzo Scaramuzza. Il Maestro Vincenzo Scaramuzza è ancora oggi, il suo metodo è ancora oggi utilizzato per l'insegnamento della musica. È nato a Crotone, è vissuto in Calabria, si è formato in Calabria, naturalizzato argentino, ma non ha mai dimenticato la sua terra ancora oggi, tant'è che esiste la sua casa, a Crotone su cui tra l'altro vi è una targa e vi è la sua pronipote che abbiamo avuto anche modo di piacevolmente ascoltare con i suoi racconti familiari in commissione. Quindi io ritengo che questa sia una delle occasioni in cui noi sicuramente andremo a trovare un'unità e dovrebbe essere sempre così, secondo me, quando si parla di cultura, quando si parla della nostra città. Quindi sono certamente molto fiducioso sul fatto che il Consiglio Comunale vorrà votare in modo unanime. Ecco, questa è intitolazione. Voglio prevenire la sua domanda, perché io già... Il Teatro Comunale di Crotone si farà, si farà, io ritengo a breve, io ritengo entro l'anno, così ci hanno riferito gli uffici, ma io sono fiducioso che questo veramente possa avvenire dopo tanta sofferenza e tanta attesa. Certo, poi la sfida inizia da quel momento in poi, ecco, perché gestire un teatro di quelle dimensioni, però io credo che il nome del maestro Vincenzo Scaramuzza possa rappresentare un buon viatico per il nostro teatro e quindi, niente, io mi auguro veramente che da domani noi potremmo parlare non più del teatro, ma del teatro Vincenzo Scaramuzza.